A Minucciano contributi alle famiglie per contrastare lo spopolamento. Il Comune assegnerà un contributo di 1.200 euro l'anno per sei anni che verrà erogato ai nuclei familiari, specialmente giovani famiglie, che si stabiliranno sul territorio. L'obiettivo appunto è restare o quantomeno limitare drasticamente la diminuzione demografica. Obiettivo che il Comune sta perseguendo da tempo, mettendo in campo le proprie risorse su vari settori, valorizzando le potenzialità turistiche con investimenti sui principali polli attrattori del territorio e sulla riqualificazione dei borghi e favorendo lo sviluppo artigianale, imprenditoriale e commerciale nei settori di maggiore vocazione del territorio, ma anche migliorando le politiche volte ad offrire a famiglie e imprese servizi di qualità a costi ridotti. Ora arriva anche questa nuova importante misura. È un incentivo concreto che ha anche un peso interessante per chi decide di mettere su casa da noi, perché i dati costi degli affitti e costi delle case sicuramente è un incentivo importante. La volontà dell'amministrazione è quella di creare una misura strutturale che si possa aggiungere a tutti gli altri incentivi in termini di servizi e di basso imposizione fiscale per venire a vivere qua. C'è già largo interesse per questa iniziativa dell'amministrazione? Dobbiamo dire che abbiamo avuto una discreta quantità di richieste, abbiamo già diversi giovani che hanno fatto domanda. La cosa interessante è che sono sia persone qua del territorio, ma anche gente che da fuori comune si è informata e ha già fatto domanda o sta facendo domanda. Quindi siamo molto contenti e speranzosi che questa misura diventi effettivamente efficace e possa strutturare un percorso positivo di ringiovenimento della popolazione, di aumento demografico o quantomeno di interruzione del trend di diminuzione demografica del territorio.